In questo video vedremo come inserire i tributi speciali all'interno della successione sulla quale stiamo lavorando Apriamo la successione dal menu file Clicchiamo su file e scegliamo stampa autoliquidazione Clicchiamo su tributi speciali In questa schermata vediamo un elenco dei codici tributo Non dobbiamo far altro che scegliere quello che ci interessa e riportarlo nella griglia in alto Clicchiamo su ok per confermare I dati appena inseriti saranno automaticamente aggiunti in F23 e sul modello di autoliquidazione Cosa hai imparato in questo video? Hai acquisito le conoscenze necessarie per aprire la gestione dei tributi speciali ed inserire uno o più tributi speciali Guarda il prossimo video 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 Grazie a tutti.